Gli appuntamenti Gli appuntamenti informativi sulla San Marino RTV sono sempre di più. Due nuove edizioni TG, alle ore 12 dal lunedì al sabato e alla domenica alle ore 14. News, attualità, ultime notizie, aggiornamenti dal territorio e dal mondo. Sette giorni su sette. San Marino RTV. Più informazione, più qualità, più notizie. La TV digitale continua la sua evoluzione. Dal 28 agosto la RAI passerà al nuovo standard europeo DVB-T2 del digitale terrestre. Anche San Marino RTV, fuori Repubblica, verrà ritrasmessa con la nuova codifica, con una migliore qualità delle immagini. Per continuare a vedere il canale 831 servirà un televisore compatibile con la nuova tecnologia HEVC. Per verificare se il tuo televisore è compatibile, basterà andare sul canale test 558. Eventualmente, occorrerà risintonizzare la TV o il decoder. Questa modifica non toccherà gli attuali canali presenti nella frequenza ricevuta all'interno della Repubblica, 642 MHz. Per informazioni, chiama il servizio di assistenza tecnica 0549 88 20 39. Grazie a tutti. Grazie a tutti.